30 derbili 2018 saluri beni beni uso a noasa in curso inghizza uso gunsa politica igresias appustisi de forza italia fincese fratelli d'italia a ricomunicau che bandra in sa coalizioni ghidara de valentina pistis chi ghidara già i dedempusus a lista civica a casa iglesias a remonauzo ga in pai a casa iglesias ancesti vincese iglesias in comune e in riformadorisi igresientisi gustatisiva sarasa elompia forza italia immo vincese fratelli d'italia entandisi in cittadina igresienti cesti avettu po i decisioni si chiara piccai prazzasella udc appustisi de isatopius con su vidi cinque stelle ha presentato stelisi vassarasa su candidava sindi questi federico garau picciocco de binti sesanos carlo murro ha essi su candidau de progetto per iglesias e iglesias risorge e su piccichi a rilassau valentina pistis a rilvatusci che rappresentai una lista con su candidau a sindico sabaronias a guardia de finanza a ribisitau un'attività di commerciali a cui a ragattao e cerco estauro su de mila giocattolo su vago sicuroso che nessun marchio c'è e che ne istruzionesi po su titolare mosso rischio de una sanzione che morilompi finasa a 10.000 euros e funti 300.000 is prodotto su nona norma e po gustu però vostu su ma tessi tempu su imbendira cerco estauro in quattro mesi desa guardia de finanza in totu sa provincia de castello sabuna dei militarisi e cusa di garantì sa sicurezza dei consumatori e sa sicurezza dei regolasi del mercato iglesias a saboro 5 domingusesi de maio in su teatro elettra dei iglesias anceressi sa manifestazioni sardegna isola della pace con sabuna dei amostai comenti si vuole fra i gai savagi proprio a partì di uno dei territorio su chi donna de bruso a sa guerra con sa presenza de sa fabbrica de bombasa de domonoasa ma vincese con i servitorisi militari si avui is potenza sa mondialisi doni annun di lompinti voi gioco su de guerra lassendi malariasa mortalisi e un ambiente sderrutto duadisi dunca sa saboro 5 domingusesi de attoviu su dibattitus riflessionesi contributus artisticus ponai totus in pai vos impegnai lottus in pai pomudai s'isola e su mundo intero vartendi des territorius nostus antapartecipai giornalistas de provenienza internazionale ma vincese artistas esponentesi politicus e religiosus assozius e comitaus regionalisi e nazionalisi cittadinus iemenitas e sirianus piccioconus giovanus e gentimana dedotto sa sardinia e dessa venisola santantiogo il berretto a sonagli de luigi pirandello anessi in scena cenavola 4 de maio ai seti de meri in sasei de sassoziu terza età in sarruga 20 settembre in santantiogo romofiu de su comuno de santantiogo su spettacolo deatrali esta incuriu de sassoziu culturali deatrali de gresesa quinte emotive regia de paolo angioni sintrara esti a indonu piscinasare si presentau ustumeria i sese mesu sul libro de filippo lorrai il grande eric lorrai picciocu sentantio ghesu esti subincitori de supremio literario rai la giara e custa via la sultima novo sardo su grazia sa desesi ghius informazioni in sardo in canale 40 buono primo maio a totusi e adios maio a totusi e adios